Il Salone di Ginevra 2021 non si farà come già nel 2020. Lo ha annunciato la Fondazione Salon Internazional dell'Automobile dopo aver condotto un sondaggio tra gli espositori del Salone che hanno detto che non avrebbero preso parte alla mostra prevista a marzo dell'anno prossimo. Un incidente di percorso che mette a rischio il più grande evento pubblico svizzero anche per i prossimi anni, tanto che la Fondazione, che detiene i diritti del marchio GIMS, si è vista costretta a venderli alla fiera ginevrina Pala Expo S.A. In un periodo particolarmente difficile per i saloni dell'auto, questo ennesimo sgambetto al più rappresentativo dei motor show per la sua neutralità e internazionalità rischia di avere un effetto domino sull'intera industria fieristica di settore.